Quali sono le quattro colonne su cui dovete lavorare? Beh, strategia, dovete avere le idee chiare, lavorare proprio sulla strategia, sull'architettura del disegno, sul posizionamento, come volete entrare nella testa delle persone, voi o il vostro porto servizio di lancio, sulla customer journey, qual è il viaggio che volete far fare. Marketing, ragazzi, è il gerundio della parola market. Market vuol dire mercato, mercato vuol dire insieme di persone, le vostre persone che volete intercettare per vendergli, per proporgli il vostro prodotto e servizio. Poi c'è il secondo elemento che è il traffico, non esiste un buon negozio se poi non c'è traffico sopra, ok? E ci sono diverse forme di traffico, traffico a pagamento, le ads, facebook ads, google ads e così via, gratis, forme di traffico gratuito e le follow up, tutto quello che succede dopo che ti ho connesso, che è di fondamentale importanza. Poi c'è la conversione, io devo avere le idee chiare sulla conversione, per trasformare una visita, una visualizzazione in un obiettivo, scaricare un pdf, acquistare, richiedere una richiesta con noi, dipende, qual è il mio obiettivo che ho nella procedura, devo averlo chiaro, se non l'ho chiaro io non posso pretendere che sia chiaro al mio mercato. Attraverso cosa? Attraverso i funnel, attraverso dei messaggi, video e testuali, attraverso le vendite, che sono fondamentali, il saper comunque comunicare con le persone, anche oggi ne parleremo. E infine l'economia, perché ho voluto mettere l'economia? Perché l'economia è legata, il marketing è strettamente legato al business della tua azienda, del tuo mondo attuale, anche se non hai un business e magari lo vuoi creare. Attraverso le KPI, gli indici chiave di performance, CRM, attraverso il mindset delle persone. Prima di tutto il tuo, dico sempre, se cresci tu, cresce la tua azienda, se cresce il tuo team, cresce la tua azienda. E il customer care, l'adattamento, il miglioramento sul lavoro delle persone. Dovete creare la vostra macchina della guerra, dovete crearla, è fondamentale. Quindi per avere un rilancio, una crescita nel 2021, è fondamentale avere un sistema di marketing e vendite efficace. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e lascia un tuo commento. Se invece vuoi maggiori informazioni, vai su funnelcompany.com. Noi facciamo crescere il tuo business insieme.